Intanto passano Renzi, i contadini! Scusi, sa, ma quella sarebbe una contadina delle Calabrie? Guarda, se il pubblico si facesse domande di questo genere, noi ci potremmo anche sparare. Che si debba perdere il sonno perché lei guadagni milioni facendo vedere... Già, perché i film non li faccio anche per te. Vorrei vedere come camperesti tu. Dunque, allora vediamo se siamo d'accordo, eh. Fuori campo, prego, fuori campo. Sì, sì. Oh, venite qua. Adesso proviamo il pezzo del bacio. Grosso modo lo conoscete. Vediamo un po' come me lo fate. Eh, ma... Avanti. Mi scusi, Clara, ma devo procedere. Sedete. La camicetta. Giù. Giù, come vi ho spiegato, adesso. Ma la censura, la censura... Ma che... Zitto. Va bene così. Benissimo. Benissimo. Perfetto. Perfetto. Che caldo. Adesso. Adesso. Ascunta la vestaglia. Sì, vai a metterti in ordine e poi facciamo una prova con le luci. Eh, basta. E non cambia niente, eh. Ma cosa c'entra? Fare molto più efficace. Chegi robino. Chirano inscrizione. Dobbiamo. Dadi. No c'entra. No c'entra.